ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video allora dato che in questi giorni è stato diciamo un pochino particolare come periodo e mi sono beccata pure un pochino di influenza quindi mi sentite con la mia voce nasale simpaticissima non si può sentire lo so ma vi assicuro che la faccia è pure peggio quindi guardiamoci il volantino che è meglio dato che l'altra volta insomma ho visto che farvi vedere questo volantino euro spin vi ha fatto piacere vi è stato utile ho pensato di riproporvi il volantino di euro spin perché diciamo che pure in famiglia a casa insomma serviva guardare un pochettino che tipo di offerte abbiamo nel periodo natalizio questo qua va proprio dal 10 al 24 dicembre se io riesco cioè se riuscirò insomma vi metterò questo video proprio il 10 in modo tale che voi possiate vedere un pochettino che cosa vi interessa allora questo è proprio il volantino buon natale vedete che anche molto simpatico ed educato e praticamente è toccato si è toccato signor ma non riesco a parlare comunque non ci fate caso veramente sembro pippo vabbè andiamo avanti oibo allora qui abbiamo ovviamente stanno uscendo tutte le cose tipiche che diciamo del periodo di natale che noi mangeremo insomma nelle feste quindi hanno messo già i gamberi argentini in prima in prima pagina a 7 euro e 99 poi c'è il parmigiano 11 e 99 allora abbiamo il volantino io ho due mani è però sto mantenendo il treppiedi perché per trovare una posizione tale per cui voi riusciate appunto a vederlo un pochino meglio senza avere il riflesso della luce allora qui abbiamo queste offerte io poi vi do sempre la possibilità di fare un fermo immagine ovviamente vi commento quelle cose che secondo me vanno prese tipo il mascarpone a un euro e 89 che è ottimo per fare un bel tiramisù che è anche il mio dolce preferito che magari se poi me lo mandate pure a casa mi fate un favore poi c'è sempre l'insalata di mare quella surgelata 5 euro e 49 ovviamente gli agnolotti insomma tutte queste cosine del periodo di natale zampone eccolo qua ragam il zampone si rosa fai capì pure che sei ignorato lo zampone a me non piace non mi piace per niente però diciamo che insomma c'è so che c'è a chi piace è una cosa abbastanza grassa quindi a me non è che piaccia tantissimo però insomma c'è la besciamella insomma queste che sono mezzelune di mamma mia mezzelune caciocavallo e friariello e friarielli a 1 euro e 99 sarebbe praticamente caciocavallo e verdura ecco madonna vabbè andiamo avanti che è meglio così rosa ma perché tu ti fai del male in questo modo allora ancora qui abbiamo i datteri un'altra cosa che mi per esempio non piace però so che nel periodo natalizio la frutta secca va che è una bellezza cremini assortiti torroncini ovviamente i prezzi sono sempre tipici dell'euro spin quindi molto molto convenienti il panettone il panettone questo qua gianduiottone cioè praticamente a forma di gianduiotto non so se lo vedete a 3 euro e 99 ma perché mi fate a e questa è un'altra cosa che a me non piace quindi voi mi direte perché se cioè come fai ad essere così in carne se non ti piace niente no ragazzi a me purtroppo piace tutto il resto del mondo quindi questi a 2 euro e 79 sono buonissimi sono i ciocco vabbè sì come si chiama dragis vabbè sì questi così qua che sono praticamente i confettini con la frutta secca dentro e la cioccolata intorno diciamo così quindi vabbè che vuol dire fa qui trovate ovviamente spumante cose del genere c'è pure la ianico in offerta quindi ovviamente poi voi fatevi il fermo immagine mettete stop così potete vedere tutto allora qui abbiamo allora la pasta sfoglia a 55 centesimi ottima che poi quella tonda insomma per fare si fanno un sacco di cose insomma nel periodo natalizio quindi ottimo averla messa a 55 centesimi abbiamo ancora questo qua petto di tacchino che mi interessa a 1 euro e 35 perché questo è magrissimo così come lo spec a 1 euro e 39 questo pure molto magro poi vabbè ci abbiamo la crescenza vari formaggi insomma questo qua formaggio fresco che noi a casa lo prendiamo spesso a 59 centesimi ma comunque le offerte devo dire che sono sono buone ci sono i simil diciamo goccioli se le gocciole goccioli ma che c'è le simil gocciole a quant'è 1 euro e 29 sono ottime queste qua alla fine non hanno nulla da invidiare a quelle originale o perlomeno io differenza non ne trovo quindi l'olio di semi per friggere poi vediamo un pochettino qui ci sono le cose per amico amico cane qua croccantini amico gatto anche ci sono delle cosine in offerta anche per la casa le verdurine queste qua ad esempio a 79 centesimi gli spinaci questi qua io li prendo sempre perché sono ottimi così come prendo anche queste cose qua al salmone questo mi è piaciuto tanto a tranci 2 euro e 99 ci sono anche su quello scoglio filetti di branzino insomma a livello di cose ecco queste qua mi piacciono tantissimo le devo prendere a 4 euro e 19 sono buonissime sono quelle che vi ho fatto vedere anche nel what it in a day insomma che ho fatto ultimamente sono veramente buone e poi sono belle come posso dire grandi ecco comunque ci mangiate ecco non sono quelle quei gamberetti minuscoli che poi una volta che le cuoci non le vedi più e quindi poi ci sono questi qua in offerta i panciottini che sono diciamo i simili come si chiamano sofficini comunque ci sono tante cose le pizzette da tante cose sfiziose in offerta questo questa pagina mi interessa tantissimo devo dire poi andiamo avanti vabbè qui il reparto carni come sapete io non mi metto a dirvi cose particolari vi fate il fermo immagine perché comunque dipende un po da quello che vi serve vediamo ancora avanti che cosa c'è che potrebbe interessarci a mortazza a sta mortazza che me la mettono sempre in un ma pozzamagna ma perché fate questo e poi va bene che altro c'è qua sempre cose di pesci filetti di alici bocconcini guardate questi bocconcini di polpo ottimi 150 grammi 2 euro e 79 buoni buoni questi quali assaggiate vi piacciono l'insalata capricciosa che questa è una delle bombe caloriche che però da noi si usa fare di solito noi a natale questa la mangiamo quindi vabbè è che che non si dovrebbe fa però non fa niente guardate questa che 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 cosa sfiziosa le tartine salmone gamberi sono praticamente delle tartine già pronte fatte così con diciamo il tramezzino sotto il pezzo di tramezzino con sopra i gamberi la la salsa mamma mia ma perché andiamo avanti ragazzi miei me sto facendo del male in questo momento ci sono queste offerte qua diciamo anche tecnologiche ecco quasi stati quel tablet della media com che è comunque un marchio diciamo abbastanza come posso dire economico però insomma 50 60 euro un tablet è pochissimo alla fine si usa solo per andare su internet quindi è anche buono poi che cosa abbiamo ancora cose della disney pigiama uomo e pigiama donna guardate quanto sono carini questi qua no questi sono stupendi pantofoli a stivaletto signori e signori ma guardate quanto so carucce 7 euro e 99 cose vabbè trapano cose per la casa ci sta la piastra a 24 euro e 99 di qua ci sono tutte cose per i bim no vabbè braga cioè guardate questo unicorno ma sei bellissimo amico unicornuto l'amico unicornuto ci costerebbe 19 euro e 99 anche lui ci prende in giro perché costa 20 euro ma che sosti 99 vorrei capire comunque non fa niente ci sono cose cari questa mi piace tantissimo il set da 150 pezzi per chi colora insomma sono quelle quelle borsettine con tutti i colori dentro diciamo tipo bauletto ecco tipo come si dice tipo valigetta ci sono poi tutte queste cosine per per i bimbi quindi si sono molto carine le cose che escono e poi di qui addirittura c'è il diciamo robot da cucina questo qua cooking machine imetec a 200 euro 199 99 al paese mio sono 200 euro comunque ci sono varie cose per la casa insomma mettono belle cose anche se uno vuole fare dei regalini sotto il periodo natalizio ci sta pure questo cosino qua che il frullatore multifunzione a 29 euro e 99 quindi ottimo andiamo avanti ci sono vabbè cose diciamo di vestiario cose per lo più intime oppure cose per la casa credo che siano allora io queste cose qua della lidl non le ho provate cioè della lissi vabbè queste cose qua dell'euro spin sono tarata sulla lidl io non c'è sta niente da fa queste dell'euro spin non le ho provate perché come vi dissi da me esce qualcosa di elettrodomestici ma per quanto riguarda la parte di vestiario è un po difficile che riesco a beccare le offerte perché quei pochi capi che mettono solitamente si finiscono il giorno dopo ma manco pure quindi non vi so dire la qualità però se voi avete la possibilità insomma questi sono i prezzi e nulla io penso che sia finito questo volantino comunque devo dire che per quanto riguarda le cose natalizie di pesce e comunque cose diciamo mangerecce ci sono tante cose sfiziose ci sono pure i terrallini maronne io questi li amo mio padre ogni tanto li prende proprio come per dire ha ha cioè soffri perché io poi li guardo ma non me li posso mangiare un praticamente a 95 centesimi vi dico che sono veramente veramente buoni e poi qua vabbè ci sta il grattugiato italiano che noi prendiamo spesso a 59 centesimi e nulla amici questo era il nuovo volantino del buon natale però devo dire sono sincera la pagina insomma questa qua che riguarda le cose ecco questa che riguarda le cose natalizie diciamo di pesce così veramente devo dire che sono ottime ottime offerte vale la pena andare ad acquistare adesso anche perché ragazzi sotto non so se concordate con me noi di solito la spesa natalizia la facciamo sempre in anticipo perché quando poi arrivi sotto le feste guarda caso pure i prezzi del pesce anche di questo surgelato insomma così lievitano lievitano non parliamo di quello fresco perché è inavvicinabile ma anche queste cose qua mettono le offerte prima si finisce l'offerta perché comunque mettono le cose a numero limitato quindi poi quando finisce l'offerta comprarli a prezzo pieno è una botta in fronte detto proprio francamente quindi affrettatevi nel caso comunque vi dovesse servire qualcosa dai ragazzi vi mando un bacione grazie per aver guardato questo video spero che vi sia utile perdonatemi la voce nulla vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video se vi fa piacere ciao